Oggi ottava della festa di Sant'Agata, un momento tanto atteso dai fedeli, si inizia con l'esposizione delle sacre reliquie di mattina e poi la processione in serata dopo la Santa Messa presieduta da Monsignor Cristina, l'ultima volta che i fedeli vedranno la loro amata santa fino a questa estate poi. Sì, questo è un momento particolare per noi catanesi ma soprattutto per tutti coloro che lavoriamo intensamente nei giorni del 4 e 5 febbraio, diciamo che in quei giorni non possiamo godere delle reliquie di Sant'Agata perché siamo veramente impegnati e pensiamo a tanti altri servizi che sono importantissimi e fondamentali per la festa. Questo è il momento che i catanesi vivono come un momento riservato, un momento di incontro tutto nostro, con un grande amore, un grande affetto, accogliamo le reliquie alle prime ore del mattino intorno alle 8, tutto il giorno ci sarà l'opportunità di baciare le reliquie negli altari laterali e poi al termine il giro esterno col mezzo busso portato a spalla, a spalla di tutti quei devoti che si avvicinano a Sant'Agata e poi si chiuderanno i cancelli per riaprirsi il 17 agosto. Forse è quello il momento un po' più duro da dover mandare giù, lasciare la santa per diversi mesi, è un momento di vera passione da parte di tutti i fedeli. Ma io se dovessi conservare una fotografia di questa festa conserverei il viso di Sant'Agata rispecchiato negli occhi lucidi dei devoti il 6 mattina. È stato un momento bellissimo e sicuramente stasera rivedremo le stesse facce, gli stessi visi, la stessa identica connozione. Senta, dal vostro punto di vista che siete proprio sulla strada, percorrete insieme alla santa, tutto il circuito, tutto il percorso, come è andata questa festa tutto sommato? Il bilancio è estremamente positivo. L'area che si respirava quest'anno era un'area diversa. Sicuramente ha influito tanto l'anno della fede, però la religiosità e la compostezza dei devoti è stata fuori di ogni dubbio diversa rispetto agli altri. hanno accolto le indicazioni del parroco della cattedrale, del sottoscritto e due giorni di serenità, grande amore, grande affetto e ci hanno consentito di riportare forse la festa a quelli che erano i vecchi canoni.